Da ieri ormai è attiva la stretta sugli over 50. Le persone appartenenti a questa fascia d'età non in regola con le vaccinazioni, che in Italia si stima siano circa mezzo milione, non potranno accedere al luogo di lavoro. Non basterà più dunque effettuare un tampone ogni 48 ore e rinnovare il Green Pass base, ma occorrerà avere quello rinforzato, il Super Green Pass, almeno fino al 15 giugno del 2022. Oltre che ai cittadini italiani, l'obbligo vaccinale si applica anche agli europei residenti in Italia e agli stranieri. Lo stato di emergenza del governo scadrà invece il 31 marzo del 2022. Da ieri dunque chi dichiara di non avere la certificazione rafforzata che si ottiene solo tramite vaccinazione o per guarigione, o ne risulta sprovvisto al momento dell'accesso al luogo di lavoro, sarà considerato assente e ingiustificato, fino alla presentazione del certificato con la sospensione dello stipendio. Fino al 15 giugno del 2022, l'over 50 senza vaccino non subirà sanzioni disciplinarie e manterrà il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Discorso totalmente diverso per gli esentati dall'obbligo vaccinale, che possono essere destinati a mansioni diverse senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. Per i Novax, che avevano pensato di aggirare l'ostacolo dell'obbligo del Super Green Pass attraverso lo smart working o mettendosi in ferie, arriva invece una doscia fredda. La normativa in proposito, infatti, è molto chiara. Il dipendente che non vuole vaccinarsi non può ricorrere a queste scorciatoie per non lavorare in presenza, come hanno del resto ribadito in questi giorni i sindacati confederali. Chi verrà sorpreso senza Super Green Pass rischia inoltre una multa che varia dai 600 ai 1.500 euro, con conseguenze disciplinari. I destinatari dell'avviso di avvio del provvedimento sanzionatorio hanno 10 giorni di tempo dalla ricezione per comunicare all'Asp l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dell'obbligo vaccinale. Ovvero ad altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. Se l'Asp non conferma l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, l'Agenzia delle Entrate provvederà a inviare entro 180 giorni dalla relativa trasmissione un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo, spetta ai datori di lavoro, pubblici e privati, e ai responsabili della sicurezza e alle strutture, verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale per gli over 50. Anche in città sono scattate le prime sospensioni. Solo a Palazzo di Città sono già 5 i dipendenti in forza in diversi settori, dall'urbanistica alla Polizia Municipale, ad aver ricevuto il provvedimento perché non in regola con la vaccinazione. In città, secondo l'ultimo rilevamento, sono alcune migliaia le persone over 50 non in regola con l'obbligo vaccinale. Chi non lavora non rischia la sospensione dello stipendio per 4 mesi, ma una multa da 100 euro, una tantum, che arriverà dall'Agenzia delle Entrate. Quella dei 50 in su è la fascia d'età maggiormente esposta a conseguenze gravi in caso di contagio da Covid. Il 35,7% dei casi sul totale e il 98,7% dei decessi, secondo l'ultimo report dell'Istituto Superiore di Sanità da inizio pandemia. Rimane intanto stabile il contagio da Covid nelle ultime 24 ore in città. Sono 125 nuovi contagiati in isolamento domiciliare, a fronte però di 142 guariti. In totale sono 1135 positivi al Covid. Due pazienti gelesi positivi sono stati ricoverati in degenza ordinaria, un altro invece è stato dimesso.